Voglia di ripartenza, di bellezza e di riscoperta delle meraviglie del nostro pianeta. Sono questi alcuni degli obiettivi della sesta edizione della Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia. Evento nazionale che si svolgerà sabato 26 giugno e chi avrà come focus principale l'amore per l'arte. Sono 15 borghi aderenti all'iniziativa tra l'Abruzzo e il Molise. Abbateggio, Città Sant'Angelo e Penne in provincia di Pescara, Anversa degli Abruzzi, Buniera, Castel del Monte, Navelli e Tagliacozzo in provincia di L'Aquila, Campi e Castelli nel Terramano, Guardia Grele, Pretoro e Rocca San Giovanni per quanto riguarda la provincia di Chieti, oltre a Fornelli in provincia di Sernia e Oratino a Campobasso. Borghi più Belli d'Italia, la sesta edizione con la Notte Romantica, consente non solo ai cittadini residenti ma soprattutto a quei curiosi, a quei cittadini appassionati di cultura, di arte, di tradizioni e soprattutto di poter assaporare i prodotti locali del territorio, vivere una giornata intensa e particolare in ognuno dei borghi certificati quali i borghi più belli d'Italia. In Abruzzo e in Molise sono 14 comuni che hanno aderito all'evento nazionale quindi in tutta Italia ci sarà il 26, questo evento che farà, non solo conoscere i borghi ma farà in qualche modo vivere un'atmosfera tutta particolare, tutta incentrata sul romanticismo, sulla bellezza, sull'amore verso gli altri, insomma su tutto ciò che c'è da poter esprimere di bello in una serata che coinvolgerà emotivamente i visitatori e soprattutto con eventi di vario tipo da iniziative che riguardano il semplice declamare delle poesie, dei racconti oppure passare appunto al dolce tipico degli innamorati che è una ricetta pensata dal Club Nazionale dei Borghi fino ad arrivare a conoscere dei luoghi mai visti ora ancora fino in fondo nei borghi stessi arte, arte bella perché si parla anche di arte moderna insomma di tutta una serie di attività che faranno vivere veramente una giornata tutta diversa tutta incentrata sulla bellezza dello stare insieme.